Siamo qui sotto a San Paolo con Francesco Venditti e con il suo amico per ascoltare il concerto di Antonello Venditti, vediamo Francesco Venditti suo figlio qui che parla, siamo alla chiusura della campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco e Antonello Venditti che nel camerino sta per andare a suonare il concerto qui dietro la basilica di San Paolo, quindi ecco ancora Francesco e mentre ci sono più perché passa, Facebook fa male, Facebook fa male perché c'è poco tempo, è vero, quello sì, quello è vero pure che invece fa più riuscire, fa incontrare e fa raggiungere delle cose, dipende da questo è stato con moto come tutte le cose, che danni ti ha fatto Francesco Venditti? ha avuto dei problemi, polizia postale, c'è gente che rompeva i coglioni, poi se non gli rispondi, la gente che si cassa, vabbè, però va bene ma alcuni personaggi famosi stanno chiudendo loro Facebook, Twitter? ma io non lo so, io non tanto per la famosità, però proprio perché non riuscivo a stargli dietro la gente si arrabbiava e quindi a un certo punto non è che potevo pagare una persona per star dietro ai cazzi miei, però chi se ne frega, va bene così infatti lo sai qual'è la cosa più bella, quando ho chiuso Facebook mi sono arrivate le telefonate e ho detto perché hai chiuso Facebook, così mi chiami e ci prendiamo un bel caffè oh benissimo se ti consiglio di sempre fare un video saluto con me e a tutti... Francesco sei... ti saluto a due del po' che ci sono i blog e tu... Francesco, un'ultima cosa, che film stai preparando, qualche film, qualche fiction? non ho nessun film, ho finito adesso una turna teatrale e sto cercando film cercando film, quindi è un messaggio di Francesco Venditti sto cercando di fare film sto cercando di fare film il film è di Sorrentino, l'ultimo... non so come sono fatto l'ultimo film è di Sorrentino, va bene, lo lasciamo al saluto no no, l'ultimo film di Sorrentino non l'hai visto ancora però è interessante ok, grazie Francesco